La Genesi dal capitolo 8 al capitolo 11 Nel settimo mese, il diciassettesimo giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne di Ararat e le acque andarono diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le vette dei monti. Così, in capo a quaranta giorni, avvenne che Noè aperse la finestra dell'arca che egli aveva fatta e mandò fuori il corvo, che uscì, andando e tornando finché le acque furono asciugate sulla terra. Poi mandò fuori da presso lui la colomba, per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. Ma la colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca, perché c'erano ancora acque sulla superficie di tutta la terra. Ed egli stese la mano, la prese e la trasse a sé nell'arca. Aspettò così altri sette giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dall'arca. E la colomba tornò a lui verso la sera. Ed ecco, essa aveva nel becco una foglia d'ulivo strappata di fresco. Così Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Allora aspettò altri sette giorni, poi mandò fuori la colomba, ma essa non ritornò più da lui. Nell'anno 601 di Noè, nel primo mese, nel primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra. E Noè scoperchiò l'acqua, guardò, ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. Così nel secondo mese, nel ventisettesimo giorno del mese, la terra era asciutta. Allora Dio parlò a Noè dicendo Esci dall'arca tu, tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Fa uscire con te tutti gli animali che sono con te, di ogni carne, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, perché crescano grandemente sulla terra, siano fruttiferi e si moltiplicano sulla terra. Così Noè uscì con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli. Tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quello che si muove sulla terra, secondo le loro famiglie, uscirono dall'arca. Allora Noè edificò un altare all'Eterno e prese di ogni specie di animali puri e di ogni specie di uccelli puri e offrì olocausti sull'altare. E l'Eterno sentì un odore soave, così l'Eterno disse in cuor suo, Io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, perché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza, e non colpirò più ogni cosa vivente come ho fatto. Finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno mai. Poi Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro, Siate fruttiferi, moltiplicate e riempite la terra. La paura di voi e il terrore di voi sarà su tutti gli animali della terra, su tutti gli uccelli del cielo, su tutto quello che si muove sulla terra e su tutti i pesci del mare. Essi sono dati nelle vostre mani. Tutto ciò che si muove e da vita vi servirà di cibo. Io vi do tutte queste cose. Vi do anche l'erba verde. Ma non mangerete carne con la sua vita, cioè il suo sangue. Io chiederò certamente conto del sangue delle vostre vite. Ne chiederò conto ad ogni animale e all'uomo. Chiederò conto della vita dell'uomo alla mano di ogni fratello dell'uomo. Chiunque spargerà il sangue di un uomo, il sangue sarà sparso per mezzo di un uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Voi dunque siate fruttiferi e moltiplicatevi. Crescete grandemente sulla terra e moltiplicate in essa. Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figli con lui dicendo, Quanto a me, ecco, io stabilisco il mio patto con voi e con la vostra progenie dopo di voi. E con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiame e tutti gli animali della terra con voi, da tutti quelli che sono usciti dall'arca e tutti gli animali della terra. Io stabilisco il mio patto con voi. Nessuna carne sarà più sterminata dalle acque del diluvio e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Poi Dio disse, Questo è il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arcobaleno nella nuvola e servirà il disegno del patto fra me e la terra. E avverrà che quando farò venire delle nuvole sulla terra, l'arco apparirà nelle nuvole e io mi ricorderò del mio patto fra me e voi ed ogni essere vivente di ogni carne e le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni carne. L'arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi del patto eterno fra Dio e ogni essere vivente di qualunque carne che è sulla terra. E Dio disse a Noè, Questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni carne che è sulla terra. Ora i figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Japheth E Cam è il padre di Canaan Questi sono i tre figli di Noè e da loro fu popolata tutta la terra. Poi Noè cominciò a fare l'agricoltore e piantò una vigna e beve del vino e si ubriacò e si scoperse in mezzo alla sua tenda. E Cam, padre di Canaan vide le nudità di suo padre e andò a dirlo ai suoi fratelli di fuori. Ma Sem e Japheth presero un mantello se lo misero sulle loro spalle e camminando all'indietro coprirono le nudità del loro padre e siccome le loro facce erano rivolte all'indietro non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si svegliò dalla sua ebrezza seppe quello che gli aveva fatto il figlio minore e disse Maledetto sia Canaan egli sia il servo dei servi dei suoi fratelli. Poi disse Benedetto sia l'Eterno il Dio di Sem e sia Canaan suo servo. Dio ingrandisca gli affette ed i mori nelle tende di Sem e sia Canaan suo servo. Dopo il diluvio Noè bisse 350 anni. Così tutto il tempo che Noè bisse fu di 950 anni poi morì. Ora questi sono le discendenti dei figli di Noè Sem, Cam e gli affette. Dopo il diluvio a loro nacquero dei figli. I figli di gli affette furono Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mashek e Tirass. I figli di Gomer Ashkenaz, Rifat e Togarmah. I figli di Yavan Elishah, Tarshish, Kittim e Donanim. Da essi vennero i popoli sparsi nelle isole delle nazioni. Nei loro diversi paesi ciascuno secondo la propria lingua secondo le loro famiglie nelle loro nazioni. I figli di Cam furono Kush, Mishraim, Put e Kanan. I figli di Kush Seba, Havilah, Sabta, Rahamam e Sabteca. I figli di Rahamah, Sheba ed Edan. Kush generò Nimrod che cominciò a essere un uomo potente sulla terra. Egli fu un potente cacciatore davanti all'Eterno. Perciò si dice come Nimrod il potente cacciatore davanti all'Eterno. E l'inizio del suo regno fu Babel, Erek, Akkad e Kalne nel paese di Shinar. Da quel paese andò in Assiria e costruì Ninive Reo, Botoir e Kalà. Fra Ninive e Kalà costruì Resen che è la grande città. Mishraim generò i Ludim gli Ananim i Leabim i Nuftuim i Patrusin e i Kal Suhim da cui uscirono i Filistei e Katforim. Kanaan generò Sidon suo primogenito Ehet e i Gubusei gli Aromei i Girgasei gli Aviei gli Archei i Sinei gli Arbadei i Tzmerei e gli Amatei. Poi le famiglie dei Kananei si dispersero e i confini dei Kananei adorarono da Sidone in direzione di Genar fino a Gaza. e in direzione di Sodoma Gomorra Atma e Zboi fino a Lesha. Questi sono i figli di Kam secondo le loro famiglie secondo le loro lingue nei loro paesi nelle loro nazioni. Anche a Sem padre di tutti i figli di Eber e fratello degli Affetti il Maggiore nacquero dei figli i figli di Sem furono Elam Assur Arpac Shad Lud e Aram i figli di Aram Uzz Ul Gedder e Mas Arpac Shad generò Shela e Shela generò Eber ad Eber nacquero due figli il nome d'uno fu Peleg perché sui primi giorni la terra fu divisa e il nome di suo fratello fu Joktan Joktan generò Almudad Shelef Atzar Mavet Gerah Adoram Uzzal Diklah Obal Abimeal Sheba Ofir Avila e Jobab tutti questi furono figli di Joktan e la loro dimora fu da Mesha fin verso Sefar il monte dell'Oriente questi sono i figli di Sem secondo le loro famiglie secondo le loro lingue nei loro paesi secondo le loro nazioni queste sono le famiglie dei figli di Noè secondo le loro generazioni nelle loro nazioni e da essi uscirono le nazioni che si sparsero per la terra dopo il diluvio ora tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole e avvenne che mentre si spostavano verso sud dall'est essi trovarono a pianura nel paese di Shinar e vi si stabilirono e si dissero l'un l'altro or su facciamo dei mattoni e cuociamoli col fuoco e usarono mattoni invece di pietre e bitume invece di malta e dissero or su costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo e facciamoci un nome per non essere dispersi sulla faccia di tutta la terra ma l'eterno discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo e l'eterno disse ecco essi sono un solo popolo e hanno tutti la medesima lingua e questo è quanto essi hanno cominciato a fare ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare or su scendiamo e confondiamo laggiù la loro lingua affinché l'uno non comprenda più il parlare dell'altro così l'eterno li disperse di là sulla faccia di tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città perciò a questa fu dato il nome di Babbele perché l'eterno Colà confuse la lingua di tutta la terra e di là l'eterno li disperse sulla faccia di tutta la terra questa è la discendenza di Sem Sem all'età di cent'anni generò Arpashad due anni dopo il diluvio dopo aver generato Arpashad Sem visse cinquecento anni e generò figli e figlie Arpashad visse trentacinque anni e generò Shelah dopo aver generato Shelah Arpashad visse quattrocento tre anni e generò figli e figlie Shelah visse trent'anni e generò Eber dopo aver generato Eber Shelah visse quattrocento tre anni e generò figli e figlie Eber visse trentaquattro anni e generò Peleg dopo aver generato Peleg Eber visse quattrocento trent'anni e generò figli e figlie Peleg Peleg visse trent'anni e generò Reu dopo aver generato Reu Peleg visse duecentonove anni e generò figli e figlie Reu visse trentadue anni e generò Serug dopo aver generato Serug Reu visse duecentosette anni e generò figli e figlie Serug visse trent'anni e generò Nahor dopo aver generato Nahor Serug visse duecento anni e generò figli e figlie Nahor visse ventinove anni e generò Terah dopo aver generato Terah Nahor visse centodiciannove anni e generò figli e figlie Terah visse settant'anni e generò Abramo Nahor e Aran questa è la discendenza di Terah Terah generò Abramo Nahor e Aran e Aran generò Lot Aran morì alla presenza di Terah suo padre nel suo paese nativo in Ur dei Caldei e Abramo e Nahor si presero delle mogli il nome della moglie di Abramo era Sarai e il nome della moglie di Nahor Milca figlia di Aran padre di Milca e padre di Ska ma Sarai era sterile non aveva figli poi Terah prese suo figlio Abramo e Lot figlio di Aran cioè il figlio di suo figlio e Sarai sua nuora moglie di Abramo suo figlio e uscirono insieme da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan ma giunti ad Aran vi si stabilirono e il tempo che Terah visse fu di duecentocinque anni poi Terah morì in Aran Genesi dal capitolo otto al capitolo undici di Grazie a tutti